e schiena e boi siamo tornati qua su questo episodio di fortnite su FIETA le news, spoiler, tutto quello che avete voi qua, sulle news di oggi patch 15.40 che è la nuova versione del file, ragazzi parliamo della nuova mappa versione 15.40 map ok ragazzi, li belli non ci sono le città però dai, la città è diventato diventato un pochino la texture non so cosa hanno aggiunto magari, beh, qualità mi sa che cosa, per esempio posso anche segnare questa qui è la nuova parte questa qui è nuova parte nuova parte questa e questa sono due nuova parte cosa è questo rivisla che questa qui è di season scorsa se non sbaglio ragazzi non so se questa qui è di questa season o della season scorsa raga gomma ragazzo all'omberi non lo so devo chiamare il mio supporto di male codi non c'è codi vorrei un cane che sa di forte raga cosa qui è codi supporto di forte dove sei qualcuno venga raga questo video qua è il raggio che mi ha fatto per me e con mia sorella che vuole venire qua e magico giada mi vuoi ascoltare allora come sto facendo che mia sorella se non vuole venire qua da parte a me devo sapere che cos'è questa parte qua se questa qui è vecchia o nuova vabbè questa parte qua raga sono i belli raga aspetta per faccio facciate che è meglio raga sono pirla scuovatemi spazzola questa qua raga è nuova questa qua raga è nuova non lo so poi questa è nuova non lo so qualcosa nuovo qua qua perché di nuovo non lo so boh boh ragazzi io di iniziano ragazzi ho fatto fare un esperimento della nuova mappa di patch un ubuntu 30 che dovrebbe riempirsi ancora magari qualche domenica poi ragazzi sarà il mondo a porto di casa sotto base del 16 021 di oggi quindi proprio perché è lunghissimo po' c'è la nascita del clan fox vediamo un po' tutto la raga del clan fox tutti i possessori del pacchetto di febbraio ci verranno schermati di caricamento della raga del clan fox segni d'occhio che do confezione del regalo delle prossime 24 ore occhi non ho capito però poi luce fotocamera notte breve oh ve leggo un po' è lungo? no ok luce fotocamera notte breve for the present short night arriva sul grande schermo in party royale il 20 febbraio alle 14 e ti che non è nostro e ti a noi e vieni a vedere una raccolta di corto di corto di film di tutto il mondo guarda su o devi tagli la festa su cosa raga 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 la pistola a pietra focaia è tornata dal cavo vabbè raga la usiamo un pochissimo ma uccidiamo tutti la pistola a pietra focaia è tornata dal cavo questa qua bellissima all cosmetics update in version 15 40 for the item shop questi sono tutti i costi messici nuovi quindi raga vi spiego un po' c'è ragazzi c'è copertura dello scar copertura dello scar che tra queste coperture dello scar raga mi piace di più a me questa poi c'è piccoli nuovi che mi piace di più questo poi di questa qua anche raga anche questo qua il primo ragazzi è anche più ok così non si segnale tutto vabbè mi evolisco poi raga non so cosa se quello che penso io questo qua quello dei pop corn che non l'avevi fatto perché faccio bene questa qua se quella che penso io poi no poi vabbè c'è mamma skin poi nuove skin nuove skin nuove skin questa qui ragazzi in brasil monos skin vecchie ma forse sono modellizzate già la rossa blu già da rossa blu sembra bombardino oscuro modificato e questa qui sembra birdy modificata poi raga sto qua sembra jossi del passato delle vecchie season precedenti stessa cosa questa qua è modificata mi ricordo il nome ok poi nuovi bundle del ghiaccio mi sa che torna poi raga il il bundle gratis gratis ascia riva usera una nuova ascia shop abile gratis nello shop forse e niente ragazzi quindi questo che finisce e poi ragazzi nuova skin in game nuova skin in game questa qua posso vedersi questa qui è quello birdie modificata questa qui non so ragazzi vi ricordate lupix non so se è giusto il nome vabbè e chi conosce i ghost gabby 12 è la skin che ha lui ok che piace un sacco lupix raga abbiamo un po' se lo trovo no è aspettato fese fa il mondo può spattare la ruota una rarità una rarità bene ok mappe patch notes che ti armi no no che armi skin 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 sul birra ragazzi questa qui sembra lupix vabbè ragazzi non ho proprio vedere poi ragazzi questa qui sembra tipo menace e niente ragazzi io un po' ragazzi mi piace più questa 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 a me piace più questa quindi ragazzi faccio lo screenshot vabbè faccio anche con me ok perché ragazzi devo ragazzi metto un po' un po' tutto perché devo modificare un po' di cose perché voglio che voglio le mette le line privacy su whatsapp quindi ragazzi dopo un attimo poi vi facete tutto ragazzi la messa proprio questa qua così e niente ragazzi vi do un bacione per questo video ragazzi puoi sempre like il canale commentate pure se si può agire per ogni cosa nel senso vista che anche oggi la che si dovrà fare mille storie e ragazzi un bacione e noi ci dimostro che ci siete e tutto bella cucina la prossima ciao